Una volta scaricato l'aiuto offline di Archicad 23 puoi procedere con l'installazione. Basta fare un doppio clic. Viene ricercato Archicad 23 sul computer. Una volta trovato arriviamo all'assistente all'installazione dell'help offline di Archicad 23. Faccio clic sul successivo. Come al solito devo leggere il contratto di licenza. Una volta terminata la lettura posso scegliere se accettare o non accettare. Per proseguire l'installazione vado ad attivare il checkbox accetto e faccio clic sul successivo. Verrà installato all'interno della cartella di Archicad 23. Faccio clic sul successivo e procedo con l'installazione. Una volta completata l'installazione basterà fare clic su concludi e l'installazione del help offline di Archicad 23 è completata. Grazie. 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 Grazie.